ma non ci posso fare niente, io sono fatta così. Ora l'unica cosa che posso fare è mettere il dottor Parodi di fronte alla mia verità e vedere che cosa mi risponde. Buongiorno dottor Parodi, lei si sta certamente chiedendo perché ho voluto vederla ancora. Glielo spiego subito. Lei ha fatto una confessione e vuole dimostrare di aver sparato per legittima difesa. Le auguro di riuscirci. Secondo me, invece, le cose sono andate in un altro modo. Non ho prove per dimostrarlo, glielo dico subito. Solamente lei può aiutarmi. Le chiedo solo di ascoltarmi, poi potrà decidere cosa fare. Anni fa lei ha ricevuto la visita di alcune persone che le hanno fatto un'offerta molto vantaggiosa per liberarsi a costi bassissimi dei rifiuti tossici prodotti dalla sua fabbrica. Era un momento economicamente molto difficile per la sua azienda e, per salvare la fabbrica e i suoi dipendenti, ha deciso di accettare. Antonio Beltramo, l'operaio più anziano ed esperto dell'azienda, deve avere intuito qualcosa e l'ha costretta a scegliere. O lei chiudeva immediatamente il rapporto con queste persone, oppure lui avrebbe detto tutto alla polizia. Lei sicuramente ha cercato di rompere l'accordo, ma, si sa, questa è gente che non ama essere abbandonata. La camorra le ha fatto capire che interrompere il rapporto sarebbe stato per lei molto difficile e pericoloso. Molto pericoloso. A questo punto, terrorizzato, lei ha deciso di eliminare l'unico testimone. Ha pensato di simulare un incidente sul lavoro, ma, per farlo, aveva bisogno dell'aiuto di qualcuno, di un operaio. Ha così deciso di usare Alberto Vergassola. Da parecchi mesi lei sapeva che il Vergassola aveva avuto una relazione con sua moglie. Lo ha minacciato di raccontare tutto alla sua famiglia e così lo ha costretto a collaborare. Gli ha raccontato che la camorra lo aveva minacciato. Gli ha detto che Beltramo voleva chiamare la polizia. È stato Vergassola che ha sabotato il serbatoio numero 12. A tre anni di distanza, distrutto dal rimorso, Vergassola ha raccontato alla moglie del suo tradimento. Voleva obbligarla a chiudere questa storia dei rifiuti tossici e a denunciare quelle persone. Lei, terrorizzato, ha avvisato i suoi amici camorristi e così Vergassola quella sera non l'ha trovata da solo.